Sarebbe stato un omicidio di impeto quello perpetrato da Andrea Soldati, il 32enne pregiudicato senza fissa dimora, arrestato con l'accusa di aver ucciso il novese di 47 anni, Massimo Romano, anche egli senza fissa dimora, il cui corpo è stato trovato l'altro pomeriggio in avanzato stato di decomposizione nel greto del rio Cuore di Ceriale, in via Tagliasacchi, nelle vicinanze di via Rivoire e piazza al volontariato. Secondo la sua confessione, resa al PM Giovanni Battista Ferro della Procura di Savona, avrebbe strangolato Romano perché sorpreso mentre stava tentando di violentare la sua compagna all'interno di un garage che i due senza tetto avrebbero occupato abusivamente. Alla vista della scena, ha raccontato Soldati, avrebbe preso il collare del cane e con esso avrebbe iniziato a stringere il collo della vittima fino a ucciderla. Poi lo avrebbe avvolto in una coperta blu alla quale ha fissato dei cavi elettrici, trascinandolo sino nel vicinissimo greto dove è stato notato da una passante. I fatti si sarebbero svolti il 28 ottobre, giorno in cui la sorella del Romano ne aveva perso le tracce. Sul corpo e soprattutto in viso, i carabinieri del Comando Provinciale di Savona, guidati dal tenente colonnello Paolo Belgi del reparto operativo, hanno subito notato i segni di una possibile collutazione, inserendo il caso tra gli omicidi. Le indagini, coordinate dal sostituto PM Giovanni Battista Ferro della Procura della Repubblica di Savona, si sono quindi indirizzate sui luoghi frequentati dalla vittima negli ultimi giorni, individuando il garage interrato situato proprio nelle vicinanze del ritrovamento del cadavere. All'interno i militari del nucleo investigativo hanno repertato diverse tracce di sangue, l'impronta di una particolare scarpa da ginnastica, indossata al momento del fermo da Andrea Soldati, interrogato insieme ad altre persone come conoscente della vittima. L'uomo è stato portato al Comando Provinciale di Savona e dopo un lungo interrogatorio ha confessato l'omicidio. Rinchiuso nel carcere di Imperia, è accusato di omicidio aggravato e nei prossimi giorni attesa l'udienza di convalida. Massimo Romano aveva lavorato fino al 2011 come operaio alla Marcegaglia di Pozzolo Formigaro nell'Alessandrino, poi era stato licenziato e da allora la sua vita era andata in declino. Si parla di problemi di alcol e di un'esistenza fatta di espedienti giornalieri.